Massimo, l'esperienza legata a quello che è stato il tuo percorso professionale diventa un metodo vero e proprio? Assolutamente sì. Io è dal 1993 che mi occupo di consulenza finanziaria e aiuto professionisti e imprenditori a trovare le migliori soluzioni di investimento. In realtà i mercati finanziari subiscono oscillazioni molto importanti anche in determinati periodi e io cerco assieme a loro di trovare quelle che sono le migliori strategie e i metodi per far sì che le fasi dei mercati possano diventare anche delle vere e proprie opportunità da cogliere. Trent'anni di esperienza e c'è anche il mondo finanziario che è cambiato? Assolutamente sì. In realtà il mondo della finanza e tutto il mondo si evolve in maniera molto più dinamica, molto più veloce ed è tutto molto più frenetico. Riuscire a intercettare quelli che sono questi macro cambiamenti che sono già effettivamente in essere diventa necessario per riuscire a cogliere veramente le opportunità che il mercato ci coglie. Parlo di metodo, parlo del mio libro perché diventa fondamentale trovare un metodo vero e proprio per riuscire a scardinare quelli che sono i paradigmi della finanza e tradurli in concretezza. Questo è molto importante secondo me al giorno d'oggi. Concretezza vuol dire investire con un certo metodo, usiamo giustamente questo termine, perché effettivamente oggi i rischi sono tanti. Sì, assolutamente. Diciamo che la logica di investire è l'esatto contrario di speculare. Quindi da un punto di vista operativo, io negli ultimi anni sono stato molto vicino a imprenditori professionisti e ho visto nell'evolversi del tempo le loro fasi di crescita delle loro aziende anche nei momenti di difficoltà. In realtà i momenti di difficoltà per le aziende, per gli imprenditori, per le grandi imprese sono stati momenti molto importanti perché hanno permesso addirittura loro di crescere e svilupparsi in maniera ulteriore. acquisendo nuove skill, acquisendo nuove aziende, acquisendo, noi siamo nel settore ceramico, nuove imprese vere e proprie. Quindi in realtà la crisi non solo come distruzione di valore, ma anche come opportunità per chi più e meglio riesce a programmare e a pianificarla. Ultima cosa, un distretto come questo aiuta chi deve consigliare o ci sono delle maggiori difficoltà? Diciamo che il mio metodo va oltre il territorio e va oltre il tempo. In realtà nel mondo della finanza occorre sempre di più avere consapevolezza che bisogna creare un metodo che deve essere suddiviso fondamentalmente su tre fasi, quindi una grande pianificazione iniziale, un grande approccio di selezione degli strumenti e una revisione continua delle attività finanziarie. La messa insieme di questi tre elementi permettono ai risparmiatori di poter ottenere dei grossi benefici indipendentemente dal loro luogo temporale e indipendentemente dal loro luogo territoriale.